Ho fatto errori, il tempo si dirà se ho sbagliato e quanto era giusto, in realtà questo già l'ho detto, chiudere prima, cominciare tra dicembre e gennaio a dire ai cittadini il rischio che correvano, evitare che il contagio si diffondesse, ma di questo ho già parlato e mi sono scusato con quelli che hanno inteso il mio desiderio di libertà, il mio desiderio di mettere nell'angolo il coronavirus come una incitazione a non rispettare le regole e probabilmente a farsi male, ma i cittadini hanno capito bene quello che era giusto fare e hanno anche ritenuto che io avessi sbagliato. Mi sono più volte scusato, ma oggi sono sicuro che dico una cosa che non potrà che essere condivisa. In Parlamento abbiamo votato e votiamo per dare aiuto ai cittadini, non aiuto sanitario, questo non l'hanno dato. La sanità è stata umiliata dai governi precedenti e da questo oggi si cerca di rimettere in piedi quello che non c'è più, però una cosa è certa, che gli aiuti economici che sono stati stabiliti devono andare direttamente nei conti correnti dei cittadini, non a chissà quali istituzioni, a protezioni civili o a chissà quali enti o a banche, non saprei dire dove debbano andare i 600 euro al mese che vogliono dare alle partite IVA, offendendo chi lavora in proprio e i danari che devono dare tra le casse integrazioni e i contributi a quelli che hanno bisogno per continuare a lavorare. Ebbene, siano mandati i danari dello Stato sui conti correnti dei cittadini, uno per uno. Avete i nostri nomi, avete il controllo di tutti i telefoni, avete la possibilità di vedere ogni momento dove siamo, usate i droni, usate i conti correnti e date i danari dello Stato ai cittadini perché possono andare a comprare il pane, perché se non muoiono di coronavirus non muoiono di fame. Chiaro o no, Conte? Chiaro o no, Gualtieri? Cari o no, Ministri? I soldi vanno direttamente sui conti correnti dei cittadini, uno per uno, quelli che controllate ogni giorno, a loro dovete darli. È chiaro? Adesso provate a dire che non siete d'accordo. Mi scuso con quelli che non sono d'accordo perché sono complici di uno Stato criminale.